sui motori si accendono i riflettori sulla formula 1 5.412 metri per 57 volte Gran Premio Galver del Bahrain, oggi dalle 16.30 alla gara, su TV8 Accendi Now TV, guarda quello che ti va, proprio quando ti va Sorprenditi ogni giorno con tanti contenuti diversi Non importa quando guardi Now TV o dove, importa che la guardi come sei tu E se vuoi la spegni Il grande cinema, le serie tv originali e gli show più amati di Sky Subito in streaming, il primo mese a soli 3 euro Now TV, la tv come sei tu Dalla marca Balsamo numero 1 al mondo Nuovo Pantene forti e lunghi La forza della scienza Pro-V, ora con bambù e biotina Per capelli 100% più forti e più lunghi Indossa i tuoi capelli Nuovo Pantene forti e lunghi Difficoltà ad addormentarti? Risvegli notturni? Notate sotto sopra? C'è la tripla azione di Nova Night Che ti aiuta a ritrovare il tuo naturale ciclo del sonno E non crea abitudine Nova Night, 9 consumatori su 10 sono soddisfatti Provalo Glovo è l'app che ti porta tutto ciò che vuoi Come un ottimo hamburger Per concludere la giornata alla grande O quello che ti serve dal supermercato in pochi minuti O i pannolini per un salvataggio in corner Ordina un glovo, ci andiamo noi A Riccardo piace ascoltare il suono del caffè che sale dalla moca E da quando ha scoperto le nuove nastrine al cioccolato Gli piace morderle prima da un lato, poi dall'altro Fragrante pasta sfoglia e cioccolato Nelle nuove nastrine mulino bianco Ci siamo accorti che qualcosa non andava Perché Giorgia a 11 mesi non riusciva a stare in piedi E spostava le sue gambe con l'aiuto delle mani Fuma non è in grado di bere da sola, di mangiare, di vestirsi Una diagnosi di malattia genetica rara genera smarrimento e dolore Purtroppo in quel momento non vedi futuro Tante persone stanno offrendo il loro sostegno continuativo alla ricerca Teleton Per aiutare questi bambini e i loro genitori Ho deciso di sostenere Teleton perché credo di essere più fortunato di tante altre persone Io credo che sostenere la ricerca sia fondamentale per dare una speranza alle famiglie Chiama l'894-9421 e dona anche tu 10 euro al mese Per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche Sapere che sto facendo qualcosa di concreto per tutti i bambini Che sono affetti da una malattia genetica rara è meraviglioso La donazione è un qualcosa di reciproco Si dà ma in realtà si riceve Chiama adesso l'894-9421 e sostieni la ricerca Teleton con 10 euro al mese Forse la cosa più bella è che ho la certezza che ciò che ho donato rimarrà per sempre mio Perché lo ritroverò nella ricerca scientifica che avanza Nel sorriso meraviglioso di Uma, nelle parole dei suoi genitori Adotta il futuro di molti bambini Chiama l'894-9421 e dona 10 euro al mese Grazie Rendete la vostra serata ancora più gustosa Con Forno Country McCain Poco tempo? Non rinunciate Provate Forno Express McCain Croccanti in soli 7 minuti Grazie a tutti È ora di un po' di relax Con Just Eat ordini online dai tuoi ristoranti preferiti Scegli tra il bullo al curry che ami Il tuo sushi preferito O una pizza speciale Direttamente a casa tua È ora di Just Eat Scarica l'app Siamo noi i bimbi Se ci sei dacci un segno Forse ti ha udito c'è qualcosa che mi pussa qua Cosa vi porta qui? Vacanze? No, niente vacanza Ha lasciato un messaggio in codice per me Chi è? Massimo Due nuove storie originali I delitti del barlume Salute Si comincia con Donne con le palle Questa sera alle 21.15 In prima visione su TV8 Dal vivo! Il mercoledì sera È sempre un grande spettacolo Sì! Si canta Si balla Si ride Sono così felice Ma soprattutto Mi state facendo sognare Si sogna di arrivare lontano Di arrivare in finale Il mercoledì è fatto per la musica È un gol per me! E la musica è X Factor X Factor 2020 La gara Mercoledì alle 21.15 In prima visione TV8 Vivi al massimo X Factor Live In diretta è solo su Sky e Now TV E puoi votare i tuoi cantanti preferiti X Factor Live Tutti giovedì alle 21.15 Su Sky e in streaming su Now TV Il mercoledì alle 21.15